Ben tornati su Pokémon Ranger, innanzitutto volevo dirvi mi spiace se nello scorso video ci sono stati 5 minuti di completo nero, almeno dalla parte del video dello scrivo inferiore. Allora, in quei 5 minuti ho catturato Meganium, farò vedere qualche immagine di dove si trovano i Pokémon, i luoghi dovreste riconoscerli. Meganium, dicevo, poi Silicon, che si trovano nello stesso luogo, a poca distanza l'uno dall'altro, Haunter e Porygon. Ho fatto anche vedere dove si cattura Caeclion, ma Caeclion si catturava anche nella sfida di cattura e l'ho fatto vedere prima, quindi... Sì, benissimo, iniziamo con la preparazione della cattura di alcuni Pokémon che ci servono per finire il navigatore, ossia i 3 Regi. Is your body Regi? Era pessima. Aia, perché ero un calcio appena... Ok, basta, iniziamo bene. Vai Minun subito. Non voglio avere problemi contro Blaziken, almeno. Electroshock! Ok, va bene così. Allora, questo Blaziken vi servirà, penso, un paio di volte, nella cattura di tutti quanti i Regi. Diciamo addio a Meganium, no, diciamo addio a Meganium, sì. Perché mi servono due Tangela, quindi... Quindi sì. Adesso, ci saranno delle controversie sull'ordine in cui vado a catturare i Regi, ossia, tecnicamente... L'ordine è giusto, se non ho sbaglio, è il Regi Rock, il Regi Ice, il Regi Steel. Ma a me non interessa per niente. Andiamo a catturare i quelli più vicini a noi. Perché sono indovinati un po'? Più vicini. Allora, ce ne sono due. Molto... Vicini a noi, insomma. Il più vicino... È questo che si trova qui. Ricordate dove abbiamo catturato Torkoal? Oh mio Dio, devo risfidarlo per forza, vero? Sì. Va bene, catturiamolo e poi lo liberiamo subito. Non ho problemi. Fai, Keft! Sputa un po' di lava. E mi ricarico anche un po' lo Styler di Minuni, insomma. Penso che solo nell'ultimo Regi farò un mega taglio perché serviranno un casino di roba da tagliare, insomma. Perché non serve... Inoltre vorrei tenermi tutti quanti i Regi per quando ho finito il gioco. Per farvi vedere un'altra cosa abbastanza figona. Comunque, lì sotto ci trovava Absol, già l'abbiamo visto. Già l'abbiamo catturato, quindi non ci rivado. Per carità, oddio quel super suono mi sta arrivando addosso, perfetto. E allora, cosa faremo adesso? Faremo la cosa normalissima, ossia prenderemo Blaziken e bruciremo questo pezzo di ghiaccio. Che è il secondo pezzo di ghiaccio che si poteva bruciare. Perché il primo era sopra, dove siamo appena passati. Se non avete fatto così dovete fare il giro al contrario da Invernopoli. Ma io già l'ho fatto e ve l'ho anche fatto vedere nel video. Quindi sto a posto. Catturiamo un golem perché mi servirà. Via la cattura! Sputane 3. E lascia di catturare, per favore. E anche ricaricare un po' la barra perché non voglio usare poche tattiche contro, in questo caso, Regi Ice. It's Regi Ice! Allora, questo buco qui, questa qui è una trappola, non c'è niente sotto. Qui invece c'è qualcosa. Quindi, golem, liberaci la strada, per favore. E sapete una cosa? Ne vado a catturare un altro di golem. Perché mi servirà... Oddio, c'è un rumore sospetto da fuori. Comunque mi servirà un altro Pokémon con distruzione 3. Per catturare un altro Regi. E preferisco farlo adesso perché... Perché abbiamo l'opportunità, insomma. Al massimo l'avrei dovuto fare dopo. Cosa che non vorrei fare, appunto. Quindi, preferisco farlo adesso, insomma. Allora. Vi ricordo del buco che abbiamo appena aperto, quindi non potete dimenticarvelo. Scendeteci. E avviate un Pokémon con Liana, ho dimenticato di dirlo. Fortunatamente io ho due Tangela che ho catturato appositamente. O almeno credo che dietro quel buco non ci sia niente. Tutto quel masso, più che altro. Adesso scendiamo di qui. E siamo qui, davanti a una porta misteriosa. Che se si aprirà, se la cassa e si entrate, troverete un certo Pokémon. Ossia Regi Ice. Ed è considerato un boss. Quindi via la cattura di Regi Ice. Allora, questo fa Regi Ice. Eeeh. Non dovrebbe fare nient'altro. Però, un attimo, lasciamo che esplode il suo ghiaccio. Bene. Esplode il suo ghiaccio. Che schifo. Comunque, Minun, è il tuo turno. Paralisi. Magari se me lo paralizziamo un po' meglio. Catturato. It's Regi Ice. Se avete visto il film Lucario e il mistero di Mew, sapete il verso di Regi Ice. Quindi, Regi Ice, Regi Ice. E abbiamo catturato il nostro primo Regi. My body is Regi. Per gli altri due. Benissimo, adesso bisogna fare backtracking. Perfetto. E io non ricordo come ci si va. Ah no, posso anche non tagliare. Perché bene o male, siamo molto vicini alla nostra meta. A meno che non incontriamo il tipo 50. Aiuto. 50 Pokémon che ci rompono le scatole, intendo. Perfetto. Siamo di nuovo qui. Eeeh. Torniamo da dove siamo venuti. Insomma. Regi Ice non avrà nessuna mossa. Ma avrà la po' grattica ghiaccio. Se non erro, la più lunga del gioco. Che dura 45 secondi. Non vorrei dire una stupidaggine. E non voglio provare a usare Regi Ice. Quindi. Mi astengo, insomma. Siamo qui. Voglio scendere giù, per favore. Grazie. Perché c'è un altro Regi proprio qui. Nel tunnel Borgugna. Adesso. Non ricordo precisamente dove si trova il suddetto Regi. Dovrebbe essere qui. Andando giù, magari. Eeeh. Sì, ci siamo qua. Sì, ci siamo quasi. Ricordate che vi servirà un casino di distruzione. Eeeh. Vi servirà... Puh! Ve ne serviranno quattro. Io già ho distrutto due massi. Nella mia precedente visita qui. E se non l'avete visto, vi consiglio di vederlo. Regi! Ah, istogliti! No, dov'è Tangela? Allora. Smettetela di coprire Tangela. Allora. Ok. Fermati. Ok, l'ho preso. Oddio! Troppi Pokémon. Troppo grossi. Comunque. Vi servirà un... Liana. O un trasporto. Come volete chiamarlo, insomma. Per andare da questo lato. Io ci sono già stato. Già l'ho detto. Per catturare Dugdrio. Ehm. Inoltre qua vi servirà... Eh... Taglio 2. Io anche l'ho già fatto perché avevo un Absoll e l'ho usato per questo. Ehm. E adesso usiamo la distruzione che ci manca. Quindi Golem distrugge questo macigno. Che non è neanche un macigno, è un masso se non sbaglio. Ma è la stessa cosa. Infatti è un masso. Mi servirà distruzione 3, distruzione 2. Distruzione 2. Quindi potevo anche non prendere Kangaskhan e Golem. Però mi indava. Quindi mancalo completamente. Ha mancato completamente il macigno. Comunque. Reduzione a muscoli frammenti. Possiamo andare avanti a catturare un altro Regi. E serve un altro Trasporto. Taglio e ci vediamo quando lo trovo. Ok, siamo tornati qui. Sono dovuto andare fino alla Silva Serenella per catturare due Ivysaur che stavano là. Ivysaur. Perché non mi andava di andare fino alla Catena Secra per prendere i Tangela? Fortuna che c'erano gli Ivysaur. I Ivysaur. E c'era anche un Bulbasaur da qualche parte. Ma ho preso gli Ivysaur perché sono più facili da trovare. Adesso... Torniamo la nostra ricetta. Abbiamo detto. Servivano quattro distruzioni. Due minimo. Io ho fortuna che ce ne avevo due. Perché altre due già le avevo fatte. E adesso finalmente possiamo attraversare questo ostacolo. Non vi preoccupate se non avete un'aliana extra. Perché se non erro qua c'è un Tangela tra due secondi insomma. Eccolo là infatti. E qui si arriva ad un'altra porta misteriosa. Che ovviamente conterrà... Registil! Ed è considerato sempre un boss. Adesso Registil! Non mi ricordo cosa fa. Fa cadere palle che rotoleranno per terra. Ok. No... Usiamo l'appografica a fuoco. Non voglio... Dai è super efficace. Ok no. Usiamo l'appografica elettro. Come abbiamo fatto per RGI. Si direi che è la più efficace. Ok. Aia. I suoi stupidi... Ok. Mi sa che adesso perdiamo. O forse no. Ce l'ho fatta. E sono rimasto con nove punti vita. Mamma mia. Mi devo ricaricare lo styler. Comunque. Ah. Questo ha l'istruzione 3 eh. Diversamente da Regi Ice. Che non ha assolutamente nulla. C'è questo Tangela. Spero che non mi mandi cap... Mi uccida proprio Tangela. Sennò siamo nella cacca. Lo dico. Perché devo rifare tutto quanto raccavo poi. Ok. Perfetto. Non ho avuto problemi. Inoltre c'è un Magneton. O Magneton. Non so la pronuncia perfetta. Proprio qua fuori. Quindi... Sì. Tangela. 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 Stessa cosa. Dannazione. E siamo fuori dallo schermo. Bene. Adesso si va per l'ultimo da catturare. L'ultimo Pokémon che dobbiamo catturare... Ehm... E' appunto Regiroc. Dovresti averlo capito. Per processo di esclusione insomma. Come volete dirlo. Adesso Magneton. Spara i tuoi raggi. Laserotti. Vabbè. Non li vuole sparare. Quindi meglio per me. Mi ricarico gratis. E' una cosa che devo per forza fare. Quindi Magneton. Ricaricami subito. Ah io ho carica due. Manco ho carica tre. Quindi ci ricarica appunto. Poca vita. Non tutta. Fortuna che c'è un Centro Ranger qui. Che posso ricaricarmi lo Styler. Non ho mai... Ricaricato il mio Styler a un Centro Ranger. Vi sembra possibile? Eh... A quanto pare lo è. Comunque qua c'è un altro Magneton. Nel caso non voleste per forza usare il... Ricarica Styler del Centro Ranger insomma. Un'altra cosa. Se avete una poca eratica lotta. E' ovviamente super efficace su tutti i tre regi. No aspetta un secondo. Sì. Dovrebbe essere super efficace su tutti i tre regi. Ma non ci interessa. Perché dovrebbe fare lo stesso danno. Qualcosa del genere. Adesso andiamo a catturare... Lazy King. E poi un altro taglio. Perché... Regirox si troverà molto più di... Più lontano da dove siamo noi adesso. Quindi sputa il tuo coso. Bene. Adesso vieni qua. E al centro. Ok. L'ho catturato senza problemi. Almeno stavolta. Penso di fare un taglio... Gigaenormico. Oppure potrei anche non farlo. Facciamo che non lo faccio per risparmiare tempo. Perché già l'ho fatto... Anzi no. Tecnicamente per risparmiare tempo dovrei fare il taglio. Comunque... Sì. Ricaricami lo Styler. Grazie. Bel rumore. Yeee. Ok. Bisogna andare stavolta ad Invernopoli. Nella catena secca. E vi faccio anche vedere un paio di cose mentre andiamo. Perché mi sa che bisogna catturare un certo Pokémon per agevolare tutto quanto. E non sprecare Swampert. Sapete com'è? Non voglio usarlo. Swampert intendo. Andiamo a Invernopoli. Sì. Dicca abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito il navigatore. Ci mancano solo due Pokémon. Ma chi sarà l'ultimo Pokémon? Dovrete già saperlo. Comunque... Siamo qui ad Invernopoli. Finalmente. E dato che voglio catturare un Poliwhirl. Perché forse è il Pokémon che ci serve. Voglio catturare un Poliwhirl. Fine. E devo dire addio a... Tirannitar. Sfortunatamente. Quindi. Vieni qua. Non esce fuori se è scendo giù. Vero? Perché non voglio stare cinque anni qui a trovare un Poli. Va bene. Spreco Swampert. Pazienza. Ok. Si è saltato addosso. Quindi anche meglio. Si sprecherò Tirannitar. Perché a metà grossi mi sembra più figo di Tirannitar. Adesso non mi interessa l'utilità poi. Perché... A parte che Tirannitar dovrebbe essere la Pokerattica Buio o Roccia. No. È Gruppo Buio o Pokerattica Roccia. Tipo. Fatemi controllare. Ah. Re. E Arbok non ci vedere. Perfetto. Arbok non ci ha visto. Ah. E c'è un Quilava che ci esce dal... Spalle. Per non dire altro. Ok. Qui ho... Ricordo. Già l'ho detto. Tiflution è il mio Pokémon di poco fuoco preferito. Quindi. Quilava se è ben accetto. Sfortunatamente ho... L'inventario pieno. Tra virgolette. Poverini. Mi sembrano oggetti. i Pokémon in questo modo. Ho il team pieno. Quindi non posso prenderti con me. Ah. Fortuna che sono facile da catturare. Se no. Ci mettevo cinque anni. A catturare dei... Sea Dot. Dovevo tagliare. Però pazienza. Dito che non taglio. Quindi non taglio. Ok. Andiamo su. Finalmente direi. Allora. Intanto vi dico cosa vi serve per Regirock. Perché così... Vi fate quattro calcoli. Vi serve. Se non erro. Due distruzioni. Due. Due. Un'acqua 2. O un'acqua 3. Io ho acqua 3 nel caso. Ma... Ehm... E' esserci. Benissimo. Regirock si trova in questo percorso. Tra virgolette. Se vi servono distruzioni 3. Non avete... Non avete problemi. Perché ci sono dei golemi che vi cascano in testa. Letteralmente. Aia. Non voglio sfidarti. Quindi levati. E ovviamente ci vado a sbattere addosso. Aia. Fatti catturare gole... Facciamo una cosa. Si fa molto prima se... Si scappa insomma. E non voglio che il video duri troppo. Quindi andiamo avanti. Tangela mi dispiace. Ma non mi serve assolutamente più a nulla. E adesso usiamo... Tiranitar dai. Si è l'opocratica a buio. Non voglio usarla. Quindi Tiranitar cosa fai? Per raggio? Si. E anche tu hai completamente mancato il masso. Come Kangaskhan. Comunque. Grazie Tiranitar. E vi serve acqua 2 allora. A quanto pare si. Non acqua 3. Paliweer. Non lo fai crescere con questa... Cosa d'acqua. Più che altro questo arbusto. Ok. Hai buttato l'acqua. Adesso fallo crescere. E abbiamo fatto crescere l'arrampicante. E dato che non voglio sprecare un altro Pokémon con distruzione 3. Ne vado a catturare uno adesso. Golem dove sei? Dovresti essere qui. Ecco che qua il golem da cui sono scappato. Non ti preoccupare sono tornato da te carissimo. Ah dannazione. Ho lasciato all'ultimo secondo. Ok. 1, 2. Ok. L'ho catturato adesso. Fortunatamente. Non è che questa parte sta durando parecchio. Almeno nel tempo che ci sto impiegando io a farla. Oh. Qui ci sono i Pokémon che non riescono a saltare. Poverini. Non ti azzardare a venirmi addosso. Ok. Non ti azzardare. Ok. Perfetto. Adesso c'è distruzione 3 un'altra volta. Giusto? Sì. Distruzione 3. Golem è il tuo turno. Golem. Golem. Ok. Parete distrutta. Dimmi che serve solamente fuoco 3. Perché non voglio starci 3 anni. Tanto qui ci sono i Gastly. Quindi. Li catturerò tutti quanti. Tutti i Gastly possibili. Solamente perché non voglio che mi rubino i Pokémon. Probabilmente li catturerò anche dopo. Quando sarà l'uscita insomma. Ok. Allora andiamo su. Qui ci sono altri Gastly. Mi dispiace ma non vi lascerò catturare i miei Pokémon. Mi dispiace davvero tanto. Ma non voglio che mi prendete i Pokémon. E penso che i Gastly siano stati messi apposta qui. Libera, libera, libera. Cioè solo per rompere le scatole a voi insomma. Ok. Ok. Blaziken è il tuo turno. Fuori si arriva fuoco 2. No no. Serve fuoco 3. Serve fuoco 3. Probabilmente serve fuoco 3. Ok. Ghiaccio distrutto. Ho eliminato. E ho questa cosa insomma. E adesso. C'è l'ultima stanza. La stanza di Regirock. E la musica non cambia. Comunque. Entriamo. Potevamo usare un Gastly comunque. Regirock selvatico. Cosa farà? Farà cadere rocce. Oddio. Non me lo sarei mai aspettato. Ok. Non è del gruppo terra. Quindi. Minun dovrebbe avere molto effetto. Inoltre si è lento. Quindi. Paralisi. Paralisi. Dai 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 dai. Catturato. Abbastanza facile 3 Regi. Se usate anche solo Minun. Perfetto. Catturato anche Regirock. E adesso cosa possiamo fare? Beh. Abbiamo finito no? Non è del tutto esatto. Vorrei fare un paio di cose prima di. Ok. Innanzitutto. Cercare di catturare questi due Gastly. Solamente per lo sfizio di farlo. E appena. Così almeno non mi rubano su Humpert. Dai. Esci. So che sei qui intorno. Eccoti. Spero che non mi davvero. Non mi rubino davvero su Humpert. Se no mi arrabbio parecchio. Perché è un Pokémon che mi piace. Ok. Non me l'hanno preso. Fiu. Adesso possiamo scendere a fare l'ultima cosa. Non so se avete notato la volta scorsa che ho fatto vedere il navigatore. Ma ci mancavano. Grazie Golem. Ci mancava un Pokémon. E lo sprechiamo un Gastly. Perché mi va. Insomma. Ho notato che la Poké Rattica Spettro funziona meglio se fate cerchi più piccoli. Comunque. Fatemi dire un paio di cose. Ossia il fatto che ci manca solamente un Pokémon per finire il navigatore. E vorrei finirlo con i Pokémon giusti. Quindi. Dove sei Gardevoir? Gardevoir dove sei? E anche Arbok. Però prima Gardevoir. Vorrei avere i Pokémon leggermente fighi. Per catturare. Tipo Gardevoir. Per me è leggermente figo. Quindi. Catturo Gardevoir e andiamo avanti. E poi non voglio aiuti. Voglio usare. Voglio fare solo le mie forze. Usare? Solo le mie forze per catturare. Il suddetto. Golem. Non Golem. Snorlax. Comunque adesso si muoverà. Però prima voglio parlare con l'esploratore. Volevo sfuggire dall'Arbok. Straordinario. Finalmente lo Snorlax nella grotta si è svegliato. E' quasi incredibile che questo Snorlax per rendimenti addormentato si sia rimerso dal mondo dei sogni. Ed è esatto. Quindi. Ultimo Pokémon. Via la cattura. Cosa farà Snorlax? Farà. Boom. E basta. Quindi. Catturato. E abbiamo finito. Dovremmo liberare un Golem. Se non sbaglio. Non ha niente. Poi grattica niente. E... Ah. Niente. Perfetto. Tada. Ah. Na. Ta-ta. Il navigatore è completo. Snorlax poteva decatturarlo solamente una volta visti tutti... Dove vi si è catturati tutti quanti i Pokémon della regione di Fiore. Ranger Nett esclusa. Quindi... E... Togliamo Golem. Perché... Fidatevi. Merita. Averete le regi in squadra. Usciamo dalla grotta e... Messaggio. Da Furio a Tonks. Il centro ranger di Borgovera ha appena ricevuto un rapporto dalla federazione ranger. Pare che un certo ranger abbia finalmente completato il navigatore che cataloga tutti i Pokémon della regione di Fiore. Non credevi in miei occhi. Un certo ranger? Tonks il rapporto parla di te. È una notizia eccezionale. Torna al centro ranger di Borgovera al più presto. Non vedo l'ora di dare un'occhiata nel tuo navigatore completo. Te lo trasporto. E siamo qui. Tonks. Sei il primo ranger di questa regione che sei riuscito a completare il navigatore. Perché io sono ignorante e non sapevo che ci stavano i regi qui. Comunque. Sono profondamente onorato e orgoglioso di avere un ranger come te fra noi. Questo attestato viene concesso solo a chi riesce ad ultimare il navigatore. Te lo sei meritato. Prendilo. È tuo. E... L'unica cosa che prendiamo dal completare il navigatore è quel coso là nel... Portfolio, insomma. Comunque. Yes! Attestato di conclusione. Tan 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 tan. Fine. Adesso sentiamo le congratulazioni di tutti quanti, comunque. Mi sembra che questa è l'unica volta che sentiamo questa canzone, forse. Sono veramente soddisfatto di aver avuto il buon senso di nominarti ranger. Non ne devo neanche cliccare, vero o no? Perfetto. Grazie. Grazie di cuore. Non l'ho mai finito il navigatore di ranger, eh. Questa è la prima volta. Complimenti, Tonks. Mi ha battuto ancora una volta. Io sono ancora snob, però. Non posso starmi qui con le mani in mano a farmi bagnare il naso da te. O anche a sentire la mia puzza sotto il naso. Devo impegnarmi di più per migliorare le mie qualità di ranger. Vediamo se l'acqua piada da qualcuno. La tua impresa è come un fortunale. È come un piatto di spaghetti. Quindi è molto gustoso? Non riesco a trovare le parole adace. Ma non importa, la tua impresa è semplicemente straordinaria. Quindi sappiamo il piatto preferito di frenesio. Spaghetti. Non ti voglio sentire di conoscere a fondo i Pokémon. La tua sensibilità nei loro confronti. Credo che se solo uno di questi elementi fosse mancato, non avresti raggiunto questo risultato. Tonks è il mio complimento. Arianna è peggio di te. Ehi! Certo che furio avere il proprio fiuto per i nuovi ranger. Mi è caduto lo stilo. Ti farò un regalo per festeggiare la tua soordinaria impresa. Magari se ricarichi l'acquamobile sarebbe un problema. No, nessun disturbo. Sono felice di farti un regalo. Nevia. Complimenti. Fine. Sei molto fredda, Nevia. Ormai sei un ranger di prima categoria, sia di nome che di fatto. Sì. È un ranger molto freddo. Sai cosa ti dico? Cosa? Cosa ci vuol dire? Non ho mai visto furio così orgoglioso. Orguglio è un peccato capitale, se non sbaglio. Pride. Comunque. Ehm, ecco, volevo dire con... Congre... Con... Slowpoke. Sono talmente emozionato che non mi escono le parole di bocca. Complimenti. Sai, anch'io sono molto felice. È quasi come se fosse accaduto a me. Se eravate la parte femmina di Solana, comunque. Ma ti dico una cosa. Il più felice di tutti è Minun. Vediamo se indovino il motivo. È con te sin da prima che diventassi ranger, Tonks. Non è vero, Minun? Fai mai mai. Mai, mai! Mai, 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 mai. Yes! E abbiamo finito! No. No, perché anche è vero che non abbiamo finito. Nella prossima parte di Pokémon Ranger faremo... Chissà. Alla prossima! Ciao!